salve a tutti e qui giorginio 96 che vi parla allora oggi c'è veramente io devo comunque riprendermi perché non ce la faccio non ce la faccio cerco di essere più composto possibile anche se mi verrebbe veramente da gridare perché non c'è veramente non c'è scusa di niente oggi come è palese che sia dio dico è vero che comunque tutte le persone che dicono a vabbè in serie d che cosa pretendi un gioco o comunque ma dico una finalizzazione un qualche passaggio che poi punta alla porta cioè facciamo gol per non dire altro altro termine a caso proprio come ci viene arriva il pallone l'angella gol possiamo mai possiamo mai rischiere in questo modo possiamo mai rischiere in questo modo è la troppa pressione non va bene e siamo fortissimi e dobbiamo dimostrarlo è qua è lì non non ci sono scusanti non ci sono scusanti io non ho potuto possibilità di vederlo nella partita comunque l'ho sentito il secondo tempo e ci siamo fatti riprendere in una maniera vergognosa vergognosa stavamo 1 a 0 per il gol di l'angella e poi ci siamo fatti riprendere cioè dal santo maso non è che dici sia una squadra non è che dici sia una squadra una squadretta cioè è mai possibile è mai possibile è mai possibile io non lo so è mai possibile è mai sempre 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 la stessa storia sempre la stessa storia è che non c'è quello è che non c'è quell'altro è che diciamo sempre le stesse cose ora è arrivato floriano io non ho capito questo ragazzo ha giocato no comunque qualcosa qui non va si deve al più presto si sistemare perché è vero che abbiamo pareggiato comunque se se male dovesse andare siamo sempre a più uno però non va completamente non va zero oggi non c'è nient'altro da dire che non va non va c'è la ruota non c'è il c'è inceppato qualcosa che ancora non non che ancora tende non va non va per niente c'è c'è poco da dire c'è poco da dire così rischiamo tutto rischiamo tutto cioè quando è arrivato il pareggio cioè mi sono messo a orrare quasi veniva da piangere da piangere veniva veniva da piangere non è possibile chi è chi per loro comunque cioè non è possibile va caro che impazzisce da un pugno ma dove siamo arrivati ma dove siamo arrivati dove siamo arrivati c'è non dota si infortunò che siamo nella puntini puntini non abbiamo un altro un altro terzino e questo è paese che poteva capitare questa cosa e abbiamo un terzino in meno non abbiamo un sostituto quindi vediamo che dobbiamo fare oggi veramente io non so che dire non so che dire io dico non è che ma anche in serie di se non se non vinci convincendo se non fai un gioco se non non cerchi la porta come cazzo si fa a vincere un campionato porca miseria oh santo dio santo dio finì il calcio completamente non va non va non va non va non va ragazzi deve cambiare qualcosa io vi saluto sono troppo arrabbiato oggi sono troppo arrabbiato ora vi farò raccontare la partita per bene non l'ho potuto vedere tutto ho sentito comunque si deve cambiare questa questa rotta si deve cambiare immediatamente il prima possibile ora vediamo al barbera cosa cambia ciao a tutti ragazzi forza palermo sempre anche nel bene e nel male ciao ciao a tutti iscrivetevi al canale e mettete mi piace supporto del canale ciao a tutti